Benvenuti nel mondo degli orologi bulgari. Bulgari è un marchio di lusso italiano fondato a Roma nel 1884 da Sotirio Bulgari, un argentiere greco. Da allora, il marchio si è affermato come uno dei più prestigiosi al mondo nel settore del lusso, offrendo gioielli, orologi, profumi, prodotti di pelletteria e servizi per l'industria alberghiera. Grazie alla sua esperienza nell'ambito della gioielleria, il marchio ha saputo creare degli orologi unici, che uniscono stile e funzionalità in un prodotto di alta qualità. Bulgari offre una vasta gamma di collezioni di orologi per soddisfare ogni esigenza e gusto. Tra le più famose si possono citare la collezione Octo, la collezione Serpenti, la collezione Bulgari Bulgari e la collezione Diagono. La collezione Octo è stata lanciata nel 2012 ed è caratterizzata da un design unico e audace, ispirato all'architettura italiana. Gli orologi Octo hanno una cassa ottagonale che richiama la forma del Pantheon di Roma e sono disponibili in diverse versioni, tra cui quella con movimento al quarzo, quella con movimento automatico e quella con cronografo. La collezione Serpenti è una delle più iconiche del marchio Bulgari. I suoi orologi si distinguono per la loro forma a spirale ispirata al serpente, simbolo di saggezza ed eternità. Gli orologi serpenti sono disponibili in diverse versioni, tra cui quella in oro rosa, quella in acciaio e quella con diamanti. La collezione Bulgari Bulgari è caratterizzata dalla sua semplicità ed eleganza. Gli orologi Bulgari Bulgari hanno una cassa rotonda e un design minimalista, con il logo del marchio posizionato a ore 12. Questa collezione è disponibile sia in versione da uomo che da donna. La collezione Diagono è stata lanciata nel 1998 ed è stata la prima collezione di orologi sportivi del marchio Bulgari. Gli orologi Diagono sono dotati di movimenti al quarzo o automatici e sono disponibili in diverse versioni, tra cui quella con cronografo e quella con complicazioni aggiuntive. In conclusione, Bulgari è un marchio di lusso di fama mondiale, che grazie alla sua esperienza nella gioielleria è riuscito a rendere i propri orologi tra i più prestigiosi al mondo.